Buongiorno Cerignola, abbiamo scritto la storia e quindi un buongiorno speciale e appropriato per festeggiare questa grande promozione in Serie C. Molti ringraziamenti da fare li faremo nelle sedi opportune. Oggi vi voglio dire solo una cosa, questa è una grande vittoria per tutta la città e se vi permettete è una vittoria anche del vostro sindaco. Ed è su questo che vi voglio intrattenere per un minuto. È una grande vittoria che non mi perdoneranno e tenteranno di farmi del male. Io combatto, non ho paura di nessuno, ma sappiate che proprio perché il sindaco è stato determinante in questa pagina storica della nostra città, il sindaco sarà ancora di più nel prossimo futuro il bersaglio dei nemici miei personali e della mia città. Non si spaventa nessuno, nessuno si preoccupa. Lo dico solo perché voi sappiate che c'è anche questo rischio. Che tentino di fare del male a me, colpendo me colpiranno la città di Cerignolo. Stiamo tutti molto attenti, stiamo tutti molto vigili e come dico sempre, mai paura perché Cerignolo non si ferma.